A Palermo in corso Vittorio Emanuele è crollato un cornicione, una via molto centrale di Palermo frequentata da persone che vivono e da turisti. Una ragazza di 25 anni è stata trasportata all'ospedale perché un cornicione da un terrazzo si è sbriciolata e l'ha colpita sulle spalle, alle mani e al naso. Poteva essere una tragedia molto più pesante perché i pezzi che poi si sono trovati sul pavimento erano davvero grossi, quindi è stata colpita di striscio fortunatamente, fortunatamente i danni alla persona sono limitati.